Attenzione! È vietato aprire le porte esterne delle vetture ed è vietato scendere finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista. Quando il treno è fermo è comunque obbligatorio scendere esclusivamente dal lato del marciapiede destinato al servizio dei viaggiatori. Siamo in arrivo a Torino Porta Nuova. Termine corsa del treno. Torino Porta Nuova Torino Porta Nuova